On the Draw, un viaggio illustrato, sette isole per sette illustratori, ed è un viaggio attraverso delle isole molto conosciute, che sono le isole canarie. Il progetto di On the Draw nace l'anno passato con la intenzione di dare una visione differente, distinta, di lo che sono le isole canarie. Un destino leader, come le isole canarie, deve sempre buscare le migliori forme di promocionarsi. E' un'altra visione di siete illustratori, potremmo avere una aproximazione differente a quello che è il destino di isole canarie. E' un'esperienza molto interessante e soprattutto una visione molto particolare, vinculando lo che è turismo e lo che è cultura, appoggiando anche la promozione. Particolarmente significativa la presenza delle isole canarie a Torino, dove c'è un riquillo di giovani cervelli ruminesi, che stanno guardando quel territorio come anche bobo di vita, non soltanto come bobo di vacanza. Perché Turin? Perché Italia è un mercato fondamentale dove le città di Canarie abbiamo crescere, abbiamo ancora un amplio margine. Llegan a Canarie 340.000 turisti italiani, ci sono quasi un 20% più di l'anno precedente, però ancora c'è molto più margine per arrivare al livello che ha, per esempio, il resto di Spagna. C'è un'esperienza molto interessante. di relazione e di scambio internazionale dei giovani torinesi e dei giovani di incontro con i giovani non-tolinesi. Un destino leader, come le città di Canarie, che riceve 13.000.000 turisti al anno, ha bisogno di trovare elementi differentiante a altri destini che possa mostrare le singularità del mismo. di relazione e di relazione e di relazione.